Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 rallentamenti per perte di carico tra Aglio e Firenzuola in direzione nord. I cipili per lavori all'altezza del turbone, code di un chilometro verso Firenze, tra Montelupo e Ginestra. Sullo stesso tratto, in carreggiata opposta, il traffico è rallentato. Segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, sono in corso fino al 10 giugno, lavori di ripristino in via di San Bartolo a Cintoia, a seguito di interventi sui sottoservizi, i provvedimenti di mobilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.